Non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi c'è un rapporto strano fra me e i consumatori, cioè io produco una merce che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resta inconsumata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.